Voci dall'infinito, attraverso Vanda, a cura di Vubbi, i fratelli dello spazio. Salve! Iniziamo con il saluto cosmico, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito puro. Questo inizio è spiritualmente significativo, perché riconosce la sovranità della luce cosmica che, unita in un solo uno e contemporaneamente divisa, si diffonde con i suoi raggi e con la sua energia anche nei punti più oscuri e bui. Cara sorella, il nostro modo di contattarci e i nostri iscritti diventano sempre più significativi. Notiamo la tua gioia e il candore che si esprigiona dalla tua anima, portata alla consapevolezza che il cammino intrapreso sta infine iniziando la sua vera esistenza e nel suo grande e immenso amore si riconosce parte integrante della globalità per arrivare al suo luogo di appartenenza. È un inizio gratificante, perché dopo tante esperienze vissute riesce finalmente a evadere da quell'involucro che la teneva ristretta in uno spazio tanto piccolo, soffocando la sua radiosità e la sua espansione. Cara sorella, rispondi con amore a tutte le creature che sentono in modo tangibile la nostra energia e la nostra essenza. Ci sono care e speriamo che il loro interesse non sia dovuto solo alla novità di contattare esseri di un'altra galassia, di un'altra appartenenza e di un altro procedere. Siamo e saremo sempre più uniti dall'amore cosmico se comincerete ad aprirvi al pensare cosmico. Eliminate l'idea di essere gli unici esseri viventi nel cosmo e allargate l'orizzonte pensando che sono tante le forme di vita che esistono. È questo un pensiero che si sta propagando e perciò iniziate a ricevere anche comunicazioni che non fanno parte del vostro settore, poiché avete conoscenza di una vita oltre la vostra, di un esistere continuo che si perpetua nell'infinito. Accettate quindi che la vostra vita, seppur significativa, sia una piccola cosa in confronto all'esistenza di altri pianeti viventi e della vita che vibra e vive nell'immensità del cosmo. Continua.